allora buonasera dallo Schio Hotel Italia siamo in compagnia dei nostri Andrea e Annalisa che hanno terminato la loro vacanza presso lo Schio Hotel Italia di Brusson e ci volevano dire quattro cose riguardo alla loro vacanza ma io inizio chiedendovi per rompere il ghiaccio visto che qui siamo in tema montagna come avete conosciuto la GB viaggi tramite social network ok che cos'era facebook facebook benissimo che rapporto avete trovato tra la qualità e il prezzo che avete pagato per alloggiare da noi e tornereste in una struttura GB nelle per eventuali prossime vacanze molto probabilmente sì ok perfetto lo consigliereste quindi anche ai vostri amici e per finire la cosa più importante cosa vi ha soddisfatto di più ok benissimo Andrea Annalisa io vi ringrazio per il vostro riscontro vi auguro buona vita e un saluto dallo Schio Hotel Italia ciao